E fanno 20. Anche l'edizione 2023 della Guida Michelin, presentata nel tardo pomeriggio di ieri in Francia Corta, destination partner della Guida fino al 2024, ha in elenco il patio di Pollone tra i ristoranti con una stella. Nonostante le polemiche che la vedono coinvolta ogni anno, la Guida Michelin rimane il punto di riferimento indiscusso della ristorazione di livello. Quel faro che contribuisce a trasformare un sogno, costruito con talento e fatica, in realtà. E forse è proprio questo, la vera forza di una guida storica che fin dagli inizi del Novecento aiuta i gourmandi, tutto il mondo, a ritrovarsi a tavole gastronomiche, dove essere sedotti da piatti ricercati, preparati e serviti con cura e attenzione in un ambiente elegante. Dedizione, passione, professionalità diventa dunque il cammino quotidiano per Sergio e Simone Vineis del ristorante Il Patio, che ancora, seppure alla ventesima edizione, riescono ad emozionarsi. Complici anche il totale segreto che viene mantenuto, neanche gli addetti ai lavori riescono ad avere anticipazioni. Gli chef coinvolti nella premiazione fino all'ultimo momento non sanno se verranno premiati. La rossa, come viene chiamata dagli addetti ai lavori, ancora oggi, a 120 anni di distanza dalla sua fondazione, rimane una vademecum fondamentale per fare una fotografia della ristorazione. E la fotografia del patio di Pollone oggi ci appare ancora più luminosa con quella sua ventesima stella. Grazie.